Le indagini della squadra mobile di Milano sono partite dopo l'assalto a un portavalori avvenuto il 15 ottobre 2016 a Cascina del Sole, frazione di bollate. Un colpo da un milione e mezzo di euro ancora irrisolto. Gli investigatori milanesi hanno iniziato un complesso lavoro di analisi e intercettazione telefonica, che ha consentito di scoprire un nuovo colpo a portavalori in programma sull'autostrada A14 Bari-Foggia. Assieme ai colleghi della mobile di Bari e del capologo Dauno, gli uomini della sezione antirapina hanno eseguito il fermo di sette persone coinvolte a vario titolo nella pianificazione del colpo. Al vertice della banda tre uomini che gestivano gruppi di diverse province. Giancarlo D'Abramo a Cerignola, Francesco Mavella a San Ferdinando di Puglia, Catello Lista a Manfredonia. La mente della banda sarebbe D'Abramo, arrestato dieci anni fa per una rapina in banca a Milano. Lui, così come gli altri vertici, non hanno precedenti per assalti a portavalori, pur essendo considerati degli esperti in questo settore. L'organizzazione seguiva precisi ordini e piani di lavoro. Il blitz dei confronti dei sette scattato alle 3.30 del mattino, sequestrati un centinaio di cellulari, alcuni mezzi che sarebbero stati usati per il colpo, un centinaio di proiettili, una pistola e bande chiodate fatte in casa. Nessuna traccia invece delle armi da guerra di cui parlavano nelle loro conversazioni.